Mercoledì 16 febbraio si è svolto presso la Sala del Consiglio Comunale di Cortona il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Città. L'evento è stato organizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Lapparelli nell'ambito di un progetto che vede la partecipazione dell'amministrazione comunale. Tra i presenti il Sindaco Luciano Meoni, l'assessore all'istruzione Silvia Spenserati, il Presidente del Consiglio Comunale di Cona Carini, la Dirigente Scolastica Maria Beatrice Capecchi e il Sindaco Junior Edoardo Neri, assieme rappresentanti di Crasse e degli altri indirizzi dell'Istituto Signorelli e dell'Istituto Professionale Severini. L'evento è stato introdotto dal Sindaco con un saluto alle istituzioni e una breve presentazione del progetto. È seguita la presentazione degli assessori e dei consiglieri eletti, e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Vittoria Marchesini. Nel corso del Consiglio sono state presentate le emozioni inerenti a progetti di sensibilizzazione dell'ambiente, politiche sociali e istituzionali e attività sportive. Tra queste è la settimana sportiva, un'intera settimana dedicata allo sport, attraverso l'organizzazione di gare ed eventi in varie discipline sportive scelte dai ragazzi, e la proposta di un piano per l'installazione di colonnine elettriche destinate alla ricarica di mezzi ecologici. Il progetto, realizzato dall'ite di Cortona, ha il merito di aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale varie proposte avanzate dai giovani del territorio, che saranno selezionate per valutarne l'effettiva realizzazione da parte del Comune di Cortona.